Vediamo quanti accessori ci stanno in un portachiavi. Voglio riempire un portachiavi con tutti gli accessori possibili e lui sarà il prescelto. Iniziamo con le zampine glitterate. Una viola e una blu e anche un ferro di cavallo. E ora mettiamo anche le nappine, sarà un lavoro un po' lungo. Metterò anche i cuoricini brillantinati e le stelle in pietre naturali. Aggiungo anche questo angeletto che è una novità, guardate che bello. Metto l'ultimissima nappina ed è pronto. Riuscite a indovinare quanti accessori ci sono su questo portachiavi?